Il nostro progetto è un progetto di valorizzazione di uno degli asset strategici di questo territorio e dell'Italia, il turismo e la cultura, è la Smart DMO Turismo, un progetto di messa in rete digitale delle eccellenze di questo territorio che si chiama Liguria ed è anche il punto di partenza per traguardare un obiettivo fondamentale per la competitività, vale a dire darci un'organizzazione partendo dal digitale e andando al materiale.